Basta violenza contro le donne Stop! 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 Ne abbiamo tutti abbastanza Fermiamo la violenza contro le donne È un match dal sapore di alta classifica qui al centro sportivo della Borghesiana Lodigiani e Anagni si sfidano nella quattordicesima giornata del campionato d'eccellenza targata MySoccerPlayer nel girone B per capire se davvero possono far parte di quel trenino del vertice alto altissimo della graduatoria sì, credo che uscirà proprio Cardinale comunque la punizione di Gallo è una finta per lasciare Palermo andare a soluzione corta verso Di Tosia Del Signore! Del Signore! ritrova il gol Luca Del Signore per portare in avanti Lalo Di Gianni 1-0 alla Borghesiana per i padroni di casa pronta la punizione con il mancino forte in area di rigore, colpo di testa bella che rimane lì diventa buona per la conclusione col destro di Pralini calcio di rigore per la Nagni calcio di rigore per la Nagni incredibile allora fischia l'arbitro può andare la 10 può andare Leschi! Morsa! ci arriva! ma sulla ribattuta il più lesto è Liburdi 1-1 appareggiato la Nagni appareggiato Liburdi vediamo se riparte il 3 sì, ha molta spinta ma bravo in coronato che è più fresco a strappargli il pallone vediamo eccolo il cross verso Pici Murato poi De Vecchis sulla seconda bolla il tagliagole De Vecchis porta in vantaggio di Gianni metà strada c'era anche il numero 47 di Michele poi recupera eccolo di Michele sull'ennesimo recupero a campo praticamente finito di Molinari di Michele fa il 3-1 l'arbitro guarda il cronometro e fischia tre volte torna a vincere la Lodigiani finita così la gara sull'ultima situazione sull'ultimo gol della Lodigiani il 3-1 l'arbitro poi ha guardato il cronometro affischiavo tre volte